Io credo che le Acre nei prossimi quattro anni debbano continuare questo lavoro di intreccio con le comunità essendo collante rete per altri movimenti e anche proposta fruibile di cultura debbano intercettare bisogni nuovi e debbano sempre di più essere un contesto aggregativo che possa essere espressione del territorio locale e non solo provinciale. Grazie.